Ed eccoci ragazzuoli, benvenuti su Watch Dogs Legion. Sono veramente carico al massimo perché sto provando il gioco in anteprima per voi. Mi raccomando, lasciate subito un like per supportare questi video speciali in anteprima e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi ora al mio canale YouTube, attivando la campanella delle notifiche. Sono veramente gasato al massimo perché, oltre ad essere felicissimo, per me è un grande onore continuare a provare questi giochi Ubisoft in anteprima. E ragazzi miei saliamo sull'auto e guardate che auto! E vi faccio notare una cosa, il mio attuale personaggio ha varie specialità. Ovviamente oltre a poter hackerare qualsiasi cosa all'interno del mondo di gioco, così come anche i capitoli precedenti di Watch Dogs ci hanno abituato, ma qui l'interazione è ancora più grande, abbiamo a disposizione per ogni singolo personaggio abilità, armi e cosucce varie, come anche gadget, differenti. Vi ricordo infatti che ora non controlliamo un singolo personaggio, ma andando appunto nei menu, oltre a vedere la mappa, abbiamo le varie missioni, i vari gadget, e poi possiamo vedere il nostro team. Il mio team attuale è composto appunto da questi tre ragazzi, ovvero Brian, Matthew e Roxana, ognuno di essi ha delle abilità differenti, quindi in ogni singola situazione sarebbe meglio utilizzarne uno piuttosto che un altro. Io voglio provare a vedere se riesco a reclutare lui, perché è anche una motocicletta che potrebbe esserci utile. Queste fasi ragazzi è possibile andare quindi a reclutare un po' di persone, ed eccolo là, parla a Connell. Al momento il gioco ovviamente è in inglese per la prova che sto effettuando, ma successivamente sarà completamente in italiano, per cui non preoccupatevi. Per reclutare quel tizio sembra che io debba andare praticamente in quella direzione, quindi si tratta di 100 metri circa o poco più. Chiaramente ragazzi, inutile dire che posso guidare qualsiasi cosa ci sia ovunque, qui abbiamo una bella vespa, sperando che il proprietario non sia vicino. In ogni caso ragazzi, sono veramente curioso di scoprire tutto il mondo di gioco, perché mi sembra molto dinamico, molto vivo, e mi piace veramente tanto. Poi come sapete si può hackerare qualsiasi cosa in qualunque momento, siamo già arrivati, in realtà quello che ci serve è su. Chiamando il drone si può intervenire in qualche modo, aspetta un attimo, questo posso controllarlo? Guarda che figata, vediamo se riesco a salire sopra, lo hackero, ma che spettacolo ragazzi, cosa sto facendo? Andiamo pian pianino perché non voglio fare danni, eh. Prova a scendere qui, va bene, dovrei esserci. E ora riprendo il controllo del mio personaggio. Ecco, questo è stato incredibile. Proviamo ad interagire qua. Probabilmente andiamo ad acquisire dei dati fondamentali affinché quel connel si unisca a noi. Perfetto. Access to security footage. Quindi li abbiamo ottenuti, sono praticamente dei filmati della sicurezza o roba simile. Andiamo però a vedere qual è la nostra prossima cosa da fare. Rescue the missing person? A quanto pare ragazzi devo andare assolutamente ad aiutare una persona che è da salvare ed è a lunga distanza. Nulla di più semplice. Posso andare a fare praticamente dei viaggi rapidi e sono disponibili per tutta la mappa di gioco che, da come potete notare, è veramente vastissima. Vediamo un attimino il da farsi, eh. Lui lo metto giù. No! Ho colpito la persona sbagliata! Cavolo! Qui mi si mette male. E allora provo ad attaccarlo così. Si mette veramente malissimo. Dove va? È entrato dentro! Posa quest'arma, cerchiamo di non farci assolutamente vedere. Vedo che tutti stanno scappando. Io però posso entrare da queste porte? Eccomi! Sono dentro sperando che nessuno mi veda. Devo provare a capire come distrarlo. Perfetto. Direi che è arrivato il momento. Colpisci la volo. Perfetto. Ma non siamo soli, eh. Non siamo soli. Poso l'arma, eh. Magari attiro troppo l'attenzione ancora di più con l'arma. C'è qualcuno là? Mi ha visto? Eh, ragazzi, allora qua può finire molto male, eh. Colpito. Cambiamo. Preso. Mi è andata molto bene qua, eh. Per fortuna le altre persone non mi hanno fatto troppi problemi. Stavo scherzando! Avvicinati qui, vieni! Guardalo! L'ho colpito più volte. Volevo attirarlo, ma forse, forse non era la situazione migliore. Porte aperte e tra l'altro, qui c'è anche un tech point. Prendiamo le armi e salviamo questa donna. Il tutto per poter quindi poi andare a reclutare Connell. Peccato che ora debba anche scortarla fuori. Studiamoci un attimo la situazione. Per fortuna qua tutto è stato disabilitato. Forse è da qua che io sono entrato? Mi sembra di nome. Non è caso l'uscita... Qui forse sto per fare una cavolata. Quelli non mi sembrano nemici, eh. Se provassi ad uscire così come se nulla fosse... Ma ok, queste non sono guardie. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta a svolgere questa missione di reclutamento. Tu fermo qua nel frattempo, eh. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto, ragazzi, l'abbiamo scortata. Io sapete che vi dico, mi pio pure quest'auto. Che è veramente spettacolare, bellissima. E quindi, ragazzi, missione completata. Credo che ora come ora, quindi il nostro Connell... Esatto, si sia unito a noi. Spettacolare, no? Ho distrutto l'auto. Basta distruggerla ancora. Ma è con noi. Hold to Swap. Ed eccolo qui, quindi. Lo stiamo utilizzando. E da come potete vedere, anche con lui, è possibile poi, oltre che a distrarre, reclutare e così via, è possibile andare a vedere tutte quelle che sono le sue abilità, specialità, i gadget che può utilizzare e tantissima altra roba. Da come vedete, lui, invece di far spawnare un'auto, fa spawnare, appunto, una moto. Veramente spettacolare. E mi piace molto il fatto che è possibile reclutare praticamente chiunque. Anche se c'è da dire che a qualcuno il DedSec non piace. Quindi in quei momenti c'è da fare un po' d'attenzione. Perché se vuoi reclutare qualcuno a cui il DedSec non piace, la cosa potrebbe risultare un po' complicata. C'è da dirlo. Comunque veramente tantissima roba, ragazzi. Sì, qui tra l'altro ho avviato una missione secondaria che credo mi permetterà di fare una sorta di consegna. Oh, posso farla nel giro di pochi secondi. Aspetta un attimo. E allora io mi prendo questa. Quindi è una gara di velocità, in pratica. Devo fare il record qua, ragazzi. Non esiste. E a 900 metri, un chilometro in un minuto e mezzo. No! Mamma mia, mi è andata benissimo qui. Non era assolutamente facile riuscire a non cadere, eh? Mamma mia, cosa sto combinando? Ragazzi, ci sono. La strada è mia. Le strade di Londra sono mie. E si vola, ragazzi. Ma è così, sì. Ci sono. Sto sbloccando anche altre zone che conosciamo man mano. Per fortuna non ci sono nemici in giro. Comunque nessuno che ci dà problemi. E credo che ormai ci siamo. Rallentiamo un attimino perché vorrei evitare qualsiasi tripo di scontro come ho fatto in questo preciso istante. Ma eccoci qua. Allora, rallentiamo. Ho portato un pacco da un momento all'altro e da un posto all'altro. Pacco consegnato. Parcel Fox. Perfetto. E direi che abbiamo completato il tutto e ci dà comunque dei punti etto. Veramente non male. Quindi sono delle piccole missioni... Signorina, mi scusi. Signorina, mi scusi. Non l'ho fatta a po'. Signorina, anche lei tutti davanti. Ragazzi, io sto cercando veramente di controllare al meglio la mia moto. Ma se si mettono davanti come posso farlo? Scusami. Non me ne danno possibilità. Oh, quello mi ha distrutto la moto. Ma come si permette... Mo ti buco le ruote, eh. Permettimi di dirtelo. Chi è? Oh. Ma quello stava fissando me. Scusami. Colpiscilo, colpiscilo. Ce l'ho fatta in tempo. Ecco, credo di aver alertato un po' di gente che potrebbe arrivare da un momento all'altro. Mi ricorda molto i vecchi video che facevamo, anche su Watch Dogs, per fare un po' di bordello in città, ragazzi, eh. Oh. Ma questi mica... Ah, pensavo avessero chiamati rinforzi. Stavo andando nel panico, ragazzi. Stanno arrivando, stanno arrivando. Amici, non vi permettete di avvicinarvi a me, eh. Oh. Colpito. Eh, ragazzi, sto facendo salire l'indicatore. Lo sto facendo salire, forse me ne pentirò. Arrivano pure i droni un po' alla volta. Ragazzi, questi non mi fermano. Non hanno capito che è arrivata una situazione in cui o la vinco io o non c'è nulla da fare. Guarda, lì ancora... Oh. Come... Oh, quel colpo alla testa. E mo? Ne so due mo qua. Mamma mia, ragazzi, ma sono... Un cecchino nato. Mi fermo tutti così. Abbiamo molte munizioni, però ragazzi, attenzione a non fare cavolate. Potrei provare anche a cambiare arma. Questo vola. Questo è nemico. Sembra di no per il momento, ma credo di essere messo malissimo. Sono circondato. Ragazzi miei, allora, è arrivato il momento di scappare, ma no. Sono finito malissimo. E ritorniamo direttamente a lui. Il nostro protagonista... Che per noi è il nostro protagonista. Attenzione. Oh, stai attento. Guarda la strada, amico. In ogni caso, mi sono divertito un botto. Fatemi sapere voi che ne pensate del gioco, perché è un gioco che ha veramente tantissime possibilità. E soprattutto è possibile impersonare chiunque. E questa è una cosa spettacolare, perché ognuno poi ha delle caratteristiche particolari. Ognuno può amare. Oppure avere il DedSec poco simpatico. E quindi, in certe situazioni e soprattutto in certe missioni, sarà fondamentale svolgere quella determinata missione, appunto, con la persona adatta. Quindi ragazzi, fatemi sapere tutto voi nei commenti. Fatemi sapere se lo acquisterete, se volete provarlo. Vi mando un bacione, io vi saluto. Ringrazio ancora Ubisoft per avermi fatto provare il gioco in anteprima. E alla prossima. Ciao!